Conca d'oro Io adoro questo centro commerciale, mi piace E vengo sempre in questo perché qua c'è Zara Mamma mia Io da Zara trovo sempre, quindi vengo sempre in questo centro commerciale Questa è la nuova collezione I cosmetici di bottega verde Tutte le confezioni in regalo Questa è il... E mi sa che ora io qua da Kiko ci vengo a prendere qualche cosina Bershka E ora si va da Zara Zara ci sono stata ieri Ho preso un capospalla La mia misura non c'era e l'ho ordinato online Quindi mi arriverà poi a casa Mi hanno detto entro 3-4 giorni Qua abbiamo tutto il luccichio Tutto il Capodanno Praticamente per le ragazze che pesano 30 kg Entriamo Un'altra stanza per il castellinio Grazie Ah vi faccio vedere il capo che ho ordinato online Guardate questo Praticamente è un cappotto mantella E' molto bello indossato Guardate che cintura che bella Grazie La mia misura La mia misura L'uomo La mia misura La mia misura ma adesso ce ne abbiamo oh mio dio quanto mi piacciono questi stivaletti li devo provare voglio vedere se sono comodi anche questi che belli adesso li trovo